La scuola superiore di San Giovanni Valdarno che ringrazio a nome mio naturalmente personale e dell'associazione Trattivere Arno che presiedo, dove li ringrazio perché c'è una classe che è stata non attenta, attentissima, nella mia memoria anche se risale a tantissimi anni fa, di studente mai vista una classe così attenta per quasi due ore. Ancora un grande successo per gli incontri di educazione civica voluti dall'associazione Intratevere Arno nelle scuole superiori della provincia di Arezzo e organizzati grazie alla collaborazione con il provveditorato agli studi. Stavolta è stato l'ITT Galileo Ferraris in Valdarno ad ospitare la relazione di Stefano Tenti sulla storia politica ricente. E' la storia, le vicende italiane, italiane nel contesto del mondo però, dal 1968 al 1992 a Tangentopoli. Ripeto, il ringraziamento che ho fatto poco fa non è di circostanza, è proprio vero, nel senso che mi ha fatto piacere, mi ha gratificato l'attenzione di questi ragazzi. E' vero come hanno raccontato alcuni dei nostri studenti, davvero a volte non si arriva nei programmi di storia a una storia così contemporanea, ma credo oggi come oggi, anche per fare in modo che i ragazzi partecipino alla vita attiva del nostro paese, esercitando i diritti che per fortuna la nostra Costituzione ci regala, e allora io credo che queste conferenze, queste attività hanno il merito e il vantaggio di poter parlare di educazione civica a 360 gradi. E per questo, a nome della scuola, vogliamo ringraziare i relatori, l'Associazione Frattevere Arno, l'ufficio scolastico che ci ha permesso di realizzare questo incontro, e permettetemi anche la nostra classe, la Quinta BIF, che si è comportata in modo egregio e che davvero ha dimostrato spiccate doti di senso critico, di capacità, di relazione che vanno al di là, forse, della normalità. La conferenza è disponibile integralmente nelle pagine social di Arezzo TV, che ne ha consentito anche la diretta Facebook, sarà inoltre trasmessa nel palinsesto televisivo e gli appuntamenti proseguono. I prossimi appuntamenti di questa serie di lezioni di educazione civica sono il mese prossimo alla Bibiena, dove parlerà, nelle scuole superiori della nostra provincia si tengono questi appuntamenti, a Bibiena dove è previsto che parli Eugenio Gianni, il presidente della nostra regione, e ovviamente parlerà dell'istituzione regione. Quello successivo, sempre qui a San Giovanni Valdarno, alla scuola qui accanto al liceo scientifico, l'argomento è i sistemi sanitari pubblici e privati del mondo, i sistemi sanitari pubblici e privati in sanità del mondo, quello ultimo che concluderà questo anno scolastico è ad Arezzo, era stato invitato e aveva accettato di tenere la relazione, la conferenza Davide Sassoli, che purtroppo è evidente che non lo potrà fare, e presumibilmente lo chiederemo e penso che accetterà l'onorevole Simona Bonafè, parlamentare europeo. Ragazzi, dico una parolaccia colossale, studia, leggi, fatica, è tanta fatica, tanta rottura di scato, però ti mette in una condizione di godere del regalo più bello che abbiamo avuto, la testa. Grazie. Grazie.